Ehi ragazzi, che volete che vi dico? Se esiste certa gente in Italia, ora io spero che sia un troll pagato da Conte, ma poco ci credo, sentite cosa dice, Iva. Stasera mio figlio, mamma, i miei amici e anche tutti i loro genitori, mi ricorda Johnny Stecchino, a voi e a tutte le vostre famiglie, e anche i loro genitori votano tutti, tutti eh, tutti gli amici e tutti i loro genitori votano Conte. E poi ci tiene a sottolineare, è un po' scritto, tutte le famiglie giate, nessun percettore di reddito di cittadinanza. Se è vero, siamo veramente il paese dei balocchi, ragazzi. Tutto gratis, cation, ale, giochettini, cation, tutto gratis, venghino signori, venghino. Iva, se è vero, siamo rovinati.